Buongiorno ragazzi, buongiorno, 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 buongiorno Mi ha spinta la videocamera, mi ha aprito la batteria, non so se avete visto ma lo rifaccio Buongiorno, buongiorno, buongiorno E benvenuti in questo nuovo vlog Sono eccitatissima, emozionatissima Perché succederà una cosa speciale Ma non ve lo dico Ma se avete letto il titolo del vlog penso lo capirete perché penso lo scriverò Nel titolo comunque sono felicesima Sulla mia stanza ho già fatto il letto Bellissimo Adesso mi cata molto giù Mi sono anche vestita Mi faccio dei miei outfit Molto semplice Praticamente mi sono messa lo stesso jeans che avevo all'evento All'incontro che ho fatto a quarto Preso appunto in quel negozietto Molto molto carino Con le mie scarpette adis Superstar dorate che adoro Poi sono messa questa cinta La maglietta sempre pesa in quel negozietto A quarto Troppo che avevo all'incontro a quarto Sono messo questa qua perché oggi fa un po' freschettino Quello di Napoli Anche se c'è il sole E penso che tra un po' mi spoglierò In casa fa freschetto Ho messo questa Sotto c'è la cinta Quindi fa questo effetto un po' strano Ma non so come fare altrimenti Ecco potrei fare tipo così Non so come potrei fare Ma comunque Adoro Yeah Ma tutta rosina 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 Comunque sono troppo felice Ragazze mi catapulto giù Venite con me Vieni con me Sono troppo felice Quindi vi dicevo Mi sono già vestita e preparata E devo subito girarmi un video Prima ancora di partire Devo girarmi un video Che vedrete Oggi Sul mio secondo canale Perché praticamente io caricherò Oggi è martedì Io adesso mi giro Questo video della mia colazione Che è una colazione veramente bellissima Speciale Che adoro Veloce Healthy light Carità style È la mia colazione del momento So che vi piacciono tanto E lo caricherò Sul mio secondo canale Quindi troverete Già online adesso Mercoledì Video della colazione Sul secondo canale È giovedì questo vlog Quindi Se adesso è giovedì Per voi state vedendo questo vlog Vuol dire che ieri è andato online Il video sul mio secondo canale Che registrano adesso La mia colazione Comunque Andatelo a vedere Perché è bellissimo Sul mio secondo canale Quindi adesso faccio la colazione E mangio Sti capelli Non so come sono messi Voi mi dite che io sto bene Con i capelli Mossi Boccolosi Ma io non sono convinta Comunque a breve farò Un netto cambiamento I miei capelli Perché Mi hanno soffato Voglio cambiare Vi terrò Aggiornate Comunque così E allora Per andare a concerto Ci sta Svelato Cosa succederà oggi Cosa succederà oggi Cosa succederà oggi Comunque Ho sistemato Dove è Pupi Pupi a mamma Vieni i croccantini Mamma ti dà Mamma ti dà I croccantini E pure questo Ieri Che cos'è questo Un cavalletto minion Dai cinesi Pagato solo 2 euro e 50 Voglio troppo troppo Sperimentarlo ragazzi Praticamente Quando faccio tipo Le colazioni Le ricette Sul tavolo Io sono un po' imbranata E prendevo il cavalletto grande Sarebbe questo qua Prendevo questo qua Ma è proprio Una cosa stupida Da fare Meglio mettere il cavalletto piccolo E bene Si ragazzi Faccio video dal lontano 2009 Ma sono adesso Mi sono resa conto Di questa cosa E ho comprato Questo cavalletto da tavolo Io ce la dico Sempre dopo alle cose Ma non perché sono ritardata Perché sono speciale Questo è Adesso vi faccio vedere Come si allungano anche i piedi Il cinesi mi ha detto Si allungano i piedi Lo metto sul tavolo E mi registro il video E poi dopo devo preparare Tutte le cose Per questa giornata Fantastica Yeee Ma com'è carino Questa videocamera La devo avvitare Qui sopra Vediamo Speriamo che il reggio Lo sento un po' fragilino Grazie Ce l'ho fatta Guardate come è carina La mia fotocamera Adesso sto registrando con l'altra Perché io ne ho tantissime Infatti ho messo anche la foto Sulla Instagram story Io faccio molte IG story Quindi seguitemi anche su Instagram Posiziono un po' Mi buona colazione a tutti Guardate Guardate come si fa Così E scorre tutto Diventa tipo un dolce Oddio Troppo buono Riuscite a vedere Come è buono Ragazzi colazione top C'ho ancora tutta la bocca sporca Andate sul mio secondo canale Per con la colazione Food porn Buonissima Andate a vedere la videoricetta Adesso sto sistemando Sto pulendo tutto Il baccano che ho fatto Sì anche il mio amore Ha fatto tutta papa Mi ha detto tutti i croccantini A quest'amore mio Questa è bella Ma non quando l'amo Cuccolocina Cuccolocina Ciao Bacchino Bacchino Ma che stai facendo Ma voi dovete vedere Quando è nuova giù Cuccoli Guarda l'auto sportiva I bici sono venuti qua sotto Ma che stai facendo Sto facendo la foto Del cavalletto nuovo Del cavalletto piccolo Per vedere se lo vuole anche mezzo Ha detto così Ha detto Ma non è che ci serve pure A tua sorella Facciamoci la foto Se ci serve Ce lo regalo io Sto a 2,50 euro Si si è sfregato Queste sono le nostre giornate Ma papà è venuto qua Che ti ho dato? Ma hai dato il video? La memoria di video Che ce lo porta mia sorella Che lo deve montare Ehi Fa da tramite Anche a lui A fine mese Ci siamo lo stipendio Eh sì Coppa le Lo pare buffo Ciao 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 a tutti Ciao Ciao A tutte le follower di Pachito Pachito ma questo è Milano Ma dobbiamo No questa Non lo posso dire Perché ci stanno pure I tifosi della Juve Questo lo sto mettendo Perché poi la Juve Dovrà giocare Conti Barcellona E quindi tu vuoi E io già sto portando Seggiai Dove di far Barcellona Conti la Juve Non è vero Ma noi siamo sportivi No Questo è quello di Valonense Quando andò E mi spavano Vabbè Muoviti Ma anche quella Stai aspettando il video Dai Non perdere tempo Come hai detto prima Papà Non perdere tempo Che hai detto? Papà Quando ho detto Non perdere tempo Muoviti Tu che hai detto? Non mi fa venire l'ansia Lo sapete perché? Perché ogni cosa che dobbiamo fare Mio padre fa vicino a me Mi muovi Mi fa un bestia Io faccio mano papà Mi fa venire l'ansia Non 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 mi fa venire l'ansia Che cosa? Se non ci serve a lei Lo vuoi tu? Come vuoi il mio? Lo vuoi il cavalletto come i piccoli? Se non ci serve a lei? Ma questo Non è Così Non lo sapevo Che cosa Comunque ragazzi Subito Comunque ragazze Una cosa fantastica Che è successo Guardate qua Pupi Amore brava che ha fatto Praticamente faceva sempre cacchio e pipì Sui miei tappeti E mi ha detto sai che devi fare Compaci la traversina e la metti sul tappeto Così il tappeto non si sporca Io li buttavo i tappeti dopo qualche volta Butti la traversina E ho messo la traversina qua E ti ripeto hai fatto subito la pipì Sulla traversina Brava papà Sì apro Ciao Ciao Pachito E come brava Pupi ha fatto la pipì Sulla traversina Ma scendiamo Però la cacca l'hai fatta qua mamma Ma mamma deve pulire E' vero ha fatto la cacca qua Non fa niente Sei pronti Via Guardate questo è il segreto Della felicità vero Pachito Scusa Sport salute Gli anni sono quelli che ti rovinano E tu dire 15 anni Ciao Pachito Ci andiamo stasera Ciao Sto lavorando a computer ragazze Sono facendo uscire i nuovi video di oggi Fuori c'è una bellissima giornata Il sole è troppo bello lavorare a computer Quando c'è il sole Però è bello anche uscire di casa Quindi non vedo la di finire Per riuscire Perché oggi sarà una giornata fantastica Comunque Il video di oggi sarà questo qua Ha-hul Shopping ha-hul Che ho fatto con la mia sorellina Che quindi quando state vedendo questo vlog Già è andato online Quindi spero che voi già abbiate visto Se non l'avete visto Andatelo a vedere Perché è stupendo È un video epico Dove ho comprato tante cose Bellissime Vi faccio vedere tutti i miei ultimi acquisti primaverili Bellissimi Che quindi vedete indossati Nei vlog Nelle foto Io Raccimolo tutto Vi faccio questi video Ha-hul Appunto Per farvi vedere Tutti i nuovi acquisti Nuove cose Super fashion Bellissime E veramente ho comprato delle cose carinissime Poi c'è anche un momento Un po' come dire Imbarazzante Carlita Style Le cose che combino solo io Guai contro guai Danni Live in diretta Che non ho tagliato Cioè Avrei potuto tagliare Ma l'ho tagliato Perché secondo me era troppo carino Ho detto Si faranno due risate Quindi Mi raccomando Vedete il video Perché è epico E poi fanno morire le facce di Nancy Tipo queste qua Madonna Mi fanno morire Mi giuro Cioè Ella Ha una mimica Che io adoro Guardate Cioè Alcune scene del video Tipo Questa Guardate la sua faccia Epica E guardate questa E Ci sono anche un po' di intimo Particolare Oddio La amo Andate a vedere il video Ho un po' sonno Ci vuole un caffè No dagli occhi Tanti La graffetta Che siamo a dieta Mi sembra di essere tornata indietro di 15 anni Che penso a questa fila Che sta qua La apici Quando vieni al concerto di GX Certo E' particolarissimo E' particolarissimo Perché vieni al concerto di GX Ma da ero piccolissima Che bello Che emozione Ma adesso sono ancora più bella Quanti anni ci vuole Per entrare dentro Mi sono messa gli occhi Perché se non vedo nulla E potrei cambiare GX Per me col GX Per me colpo di 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 GX C'è Lampoli! Che bello, che figata Wow Che bello, che figata E' la mia parte migliore Perché, zio, ci hai un fisico della Madonna Ma un uomo è il mio E' una cosa che mi diceva Cioè, già si sapeva che avevo delle grande belle gambe Però questa è una cosa che ho voluto tenere per i miei 44 anni Che volete farci, ragazzi? E' il bello di essere brutti 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 Guarda qui, posso vedere da un minuto? Tutti sono in una vicinanza E poi attenzione con noi Tutti, tutti, tutti Wow Ragazzi La bugandà finisce bene Dorme in un'altra E poi invece usciamo qui E vediamo tutta questa gente che sorride Anche Quella che è partita come una giornata no Poi diventa una serata, sì Ma veramente sì E ragazzi Tutto parte dall'apprezzare le piccole cose E queste non sono le piccole cose Ci vogliono Per aggiungere l'eufonia Per le piccole cose Che non hai ancora Oltre mi spingere Oltre ogni cosa Per le piccole cose E poi Per le piccole cose E poi Per le piccole cose E non hai ancora Ma lei trascetta le cose, partire il muso duro, le bigliette del cammino L'arima di stretta e quei vicini metto a porto con le bocce E direi così, ma non potrà arrivare Sarà Mentre l'infermio le filava i tubi nelle braccia Da due capi e ti ho prendendo i soldi, da due volte da capire Avrò portato in piano a piano a canzone Non solo capire veramente quello che conta Le agitazioni del tempo che mi fanno Non figlio, tu rispondi tra te, tuoi tempi Tra che problematica di verità, lo comunque ne sono in orario Io voglio tagliare l'accordo, figlio, voglio ne tagliare un treguardo E se non c'è l'aria, tutto il male, lo di me come assenzio Stanotte, e quante volte avrei voluto urlare Ma sono rimasto in silenzio A pensare alle cose che ho perso Ad immaginare le cose di verso Non mi guardo la mesa, lo strecchio e dal fuoco E sospetto che dentro l'infiamma, lo strecchio e dal fuoco Ho ancora di carne, ho fatto una barca La stalla nel verde, ho fatto una barca E tu ora di vero a chi Io faccio giorni molto subito C'è capito quando vuoi rivedere E mi guarda, mi guarda, il sole andrà E mi pensava, mi guarda un po' Alla effetto, a questi figli e così La salina è curati Devo dire, che bene E' un film della patonda Comunistico role, esatto E quindi, se lo chiamo fa Io faccio ringrazio I don't know 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 Alla effettiva I don't know 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 Ma è vero che mi soggia tanto fuori di amare Come servirebbe dirci che ci siamo avanti Dopo quello che lo scendisco ci saremmo già lasciato Guardiamoci il momento che è prima o poi finisce L'amore spesso finisce la spettiva senza l'utilizzo Anche se vuoi un luogo magnico Sono tre, non so, non ci troverò Da parte in corso, ma ti stengo Non so, non so, non so, non so, non ci troverò E' possibile, a me che la metteria Non so, non so, non so, non so, non so E' possibile, a me che la metteria E' possibile, a me che la metteria Non so, non so, non so, non so, non so, non so Questa casa si è molto ottimo, anche per lo svolto in giustato Ma vici sanera, carattera, con criticità che è finita la crisi Nagliari, noi balla, lo scivino, mi c'è il destino Il mio cavallo è più stile Come va? Vai! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Ragazzi, voglio sentire, ho il mio clan, tutto il vostro amore per Frege! Grazie, Napoli! Tutto bloccato, usciremo mai? Chissà C'è la luce? Situazione disastrosa Comunque alla fine è finita, non mi ascolto bene, non sento nulla, ho le orecchie otturate, completamente pure tu! Oddio, non sento nulla, comunque è finita male perché a un certo punto mi sono andata a andare perché mi avuto un mal di schiena e non mi riuscivo anche più a muore perché sono vecchia! Non ho più l'età, non ho più l'età per queste cose, però abbiamo visto che sono andata a sedere ed era bello buono! Io sono andata a sedere ed era bello buono! Comunque è stato bellissima, tu non lo sai, ma io ho baciato Fede, se l'ho incontrato, ho incattato dietro le guinte e mi sono fatto una toga e me l'ho baciata! Qua è stata andata a te, mi sono andata a te! Ragazzi, lasciatevi un bel like, sono distrutta, vi giuro, sembra che ho perso l'udito, non so in quanto tempo mi passi questa cosa, però è bruttissimo, vero? Eh sì! E sto stonata, alle orecchie non sento nulla, comunque vi mando un bacio grande e adesso torniamo a casa, ciao! E poi, a video, a te, mi sono andata a te, mi sono andata a te! Buongiorno a tutti i nostri amici.